Salve a tutti, oggi siamo al dottor Enrico Castaniga, didatta del Centro Melanese di Terapia della Famiglia e consulente dell'Associazione di Auto Mutuo Aiuto Milano-Munza-Brianta. Bene, ci aiuta a capire cosa sono i gruppi di auto mutuo aiuto? Bene, i gruppi di auto mutuo aiuto sono gruppi di pari, cioè persone che hanno vissuto e stanno vivendo una difficoltà o un problema. Il problema in genere è tutto ciò che è ascrivibile attraverso un'etichetta sociale, alcolismo, disturbi alimentari, attacchi di panico che spesso corrispondono anche a delle diagnosi. Quindi che cosa sono i gruppi di auto mutuo aiuto? Dei gruppi che vengono attivati, allestiti, facendo partecipare i pari. Chi sono i pari? Coloro che condividono il problema, coloro che hanno l'esperienza del problema. Ovviamente non sono gruppi che si organizzano mettendo assieme persone che stanno male, perché quello non è un gruppo d'auto mutuo aiuto. Ma recuperando un patrimonio inestimabile, direi, di tutte quelle persone che hanno attraversato delle difficoltà, dei dolori, dei problemi nella vita, che hanno avuto modo di superarli o di avere una buona competenza nel governare la difficoltà e si mettono a disposizione di chi in questo momento ha iniziato il suo percorso all'interno di un'esperienza negativa della vita, che nasce appunto attraverso questo tipo di difficoltà. Ce ne sono di tutti i tipi, esiste fondamentalmente l'esperienza di alcolisti anonimi e in particolare in Italia dei CAT, dei club alcologici territoriali, che sono dal punto di vista della numerosità i gruppi più presenti sul territorio nazionale. Come funzionano? Allora, i gruppi funzionano in questo modo, cioè innanzitutto bisogna capire come attivare un gruppo d'auto mutuo aiuto ex novo. Allora, quello che si deve fare, se pensiamo per esempio a un professionista che vuole attivare un gruppo d'auto mutuo aiuto ex novo, è quello di capire qual è il focus, qual è il target a cui rivolgersi. I gruppi devono avere un comune denominatore, che è appunto rappresentato dall'esperienza che si condivide. A quel punto la cosa migliore è contattare direttamente le persone che si conoscono, cercare di intercettare delle persone che si conoscono all'interno di quel contesto in cui di solito uno opera. Di solito mi viene in mente di attivare un gruppo d'auto aiuto in funzione del contesto in cui lavoro o mi muovo. Ed è più semplice da questo punto di vista intercettare le persone che vivono quella problematica. All'interno delle persone che cerco di intercettare, devo cercare di comprendere chi magari è già avanti nella gestione della difficoltà o del problema, perché è una persona che ha sviluppato delle competenze e delle risorse che ha messo a disposizione per sé, per la sua famiglia, ma che può mettere anche a disposizione di altri suoi pari. E allora posso ingaggiare queste persone, motivarle a partecipare a questo progetto, cioè di attivazione di un gruppo d'auto mutuo aiuto in maniera tale che poi si possa offrire invece alla popolazione di chi condivide la difficoltà la partecipazione. Come funzionano? Ci si ritrova una volta alla settimana in un luogo adeguato, adatto al mantenimento della riservatezza e si inizia attraverso una prima presentazione dei partecipanti facendo proprio l'elenco dei partecipanti, che è un modo anche per conoscere i vari membri del gruppo. Poi si entra nella discussione del vivo, i gruppi d'auto mutuo aiuto sono gruppi in cui si racconta la propria esperienza, si cerca di discutere quali sono, cioè di confrontarsi su quali sono state le risorse e le soluzioni che abbiamo cercato di adottare per affrontare e attraversare il problema e si chiede aiuto a chi prima di noi ha attraversato quella difficoltà. I gruppi d'auto mutuo aiuto nell'incontro settimanale hanno il loro momento più importante di confronto e di programmazione però di quello che è il fondamentale dell'auto mutuo aiuto, cioè l'azione di auto mutuo aiuto che si deve svolgere al di fuori del gruppo, magari durante l'arco della settimana. Non sono azioni rivoluzionari o azioni di intervento di chissà quale genere ma sono piccole azioni che spesso però sono importanti e fondamentali per rompere l'isolamento, la solitudine che le difficoltà in genere impongono alle persone che stanno male. Allora non sono gruppi quindi di parola, a differenza per esempio della maggioranza dei gruppi di psicoterapia, ma sono gruppi d'azione, cioè ci si incontra, ci si confronta, si condividono i vissuti ma si programmano anche piccole azioni di mutuo aiuto che sono appunto in situazioni tipo sentirsi anche solo telefonicamente come in questo periodo o vedersi online come stiamo facendo anche noi, oppure quando ci sarà, speriamo al più presto, la possibilità di muoversi più liberamente, incontrarsi anche per bere un caffè, per andare a vedere un museo, una mostra, a vedersi un film, andare a mangiarsi una pizza o come spesso accade nei gruppi che abbiamo a Milano e a Monza, anche accompagnare a fare degli esami in ospedale, perché non dimentichiamo che spesso le persone non sanno a chi rivolgersi, anche solamente per avere una compagnia in momenti di difficoltà della vita. In questa cornice storica, quindi di emergenza da Covid, quali potrebbero essere i futuri gruppi di autocompaio aiuto? Allora, intanto c'è da dire che i gruppi che erano attivi prima del coronavirus hanno continuato a funzionare in forma online e per chi magari più anziano, non avvesse la tecnologia o che non aveva a disposizione i mezzi tecnologici per poterlo fare, sono stati contattati, mantenuti contatti telefonicamente. Quindi i gruppi hanno mantenuto la loro attività anche se nelle formule che ovviamente chi più chi meno ha dovuto utilizzare per mantenere delle comunicazioni aperte con il resto del mondo. Il futuro rispetto all'automuto aiuto e in relazione a quello che stiamo vivendo in questi mesi, in queste settimane, non credo che sarà un futuro particolarmente differente dai gruppi che abbiamo fatto. Sicuramente ci dobbiamo aspettare persone che hanno subito perdite, ovviamente relativamente al coronavirus, che sono perdite, tutte dolorose come tutte le perdite, però che hanno questa connotazione che ha sospeso il lutto e ha interrotto il processo di continuità che c'è di solito quando si hanno delle perdite. Cioè le persone si sono viste portare via letteralmente il proprio caro, la persona con la quale si aveva un legame, portato via, portato in ospedale, messo in isolamento e in terapia intensiva e non averlo in alcuni casi neanche sentito, in altri sentito magari un paio di volte e poi mai più visto. E quello che poi ritorna non è la possibilità di stare vicino anche al corpo di chi abbiamo perso, ma quello che ritorna poi a casa a distanza anche di settimane è un'urna con le ceneri in molte situazioni. In altre è andata tra virgolette meglio perché è stato possibile anche fare i funerali, ma in pochi casi e in casi molto particolari, ma la maggioranza delle persone hanno vissuto questa esperienza negativa. Ecco, forse nei gruppi del lutto non sono, come dire, non mi trovo d'accordo l'idea di fare gruppi ad hoc per chi ha avuto il lutto legato al coronavirus, perché è importante invece confrontarsi nella dimensione più generale della perdita, ovviamente con le attenzioni del caso e considerando che ci sono state queste complicazioni, questo sì, riconoscendo questa peculiarità. Dall'altra parte, quello che è mancato sia in queste settimane, almeno per il confronto che ho avuto io con altri colleghi e per quello che è stato possibile rilevare, questo non solo in Italia ma anche all'estero, è mancata una forma di automutuo aiuto per i professionisti, che erano in prima linea, come la chiamano la maggioranza di quelli che scrivono su queste cose, cioè coloro, gli operatori sanitari che hanno dovuto assistere i malati, le persone che morivano, eccetera. Per quello che ne so io ci sono stati delle forme di supporto ai professionisti, ma non in termini di automutuo aiuto, di gruppi di automutuo aiuto, cosa che secondo me invece in questa occasione sarebbe stata molto importante. Non è stata fatta fino adesso, ma se non è stata fatta non è detto che non si possa fare adesso e non si possono attivare. Io che ho contatti con dei colleghi messicani so che un collega che è anche medico a Guadalajara ha iniziato, credo questa settimana o la scorsa settimana, a organizzare un gruppo di automutuo aiuto per i professionisti, medici, infermieri, eccetera, psicologi che si stanno occupando dei malati di Covid. Va bene, grazie mille delle indicazioni. Chi vuole avere notizie in più può guardare su un sito, su una pagina Facebook, su qualcosa. Si può vedere il sito dell'associazione automutuo aiuto, Milano Monza Brianza, che è www.automutuoaiuto.org oppure il mio canale YouTube dove si possono trovare delle videopillole, siamo arrivate alla puntata numero 50, quindi ce n'è da vedere, su cui abbiamo parlato di automutuo aiuto e collegato a questa esperienza del coronavirus. Grazie, grazie mille, un abbraccio. Grazie a voi, arrivederci a tutti.